Presenta la formazione delle FIAAA! Con il numero 32, Cristina! Con il numero 4, Mamma! Con il numero 5, Filippo! Con il numero 10, Capitano Crone! Con il numero 12, Filippo! Con il numero 13, Alessandro! Presenta! Con il numero 15, Jamel! Presenta! Con il numero 20, Ibiadio! Con il numero 22, Antonio! Con il numero 28, Urbini! E con il numero 70, Rosso Di Sousa! Capito! Con il numero 21, Marco! Con il numero 9, Filippo! Esso! Capito! Capito! Pagito! Capito! 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 E se la nostra valianza era un sogno che è il sogno di esercizio con il numero 21 Massimo con il numero 23 Massimo con il numero 25 Daniele e con il numero 92 Stefano ha il numero 22 ha il numero 22 Massimo a piedra l'incontro il primo assistente Vigoletti Musolino benvenuti nella casa scala VIVA Grazie a tutti Grazie.